Grazie. Grazie a voi per essere così numerosi. Io parlerò oggi di innovazione partendo da questo piccolo libro che ho pubblicato qualche mese fa, che si intitola Per un pugno di idee, storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita. Come nasce questo libro? Molto semplicemente nasce dal fatto che oggi, come credo sia esperienza di tutti voi, il discorso sull'innovazione è un discorso onnipresente, è una specie di mantra. Sembra che se non innoviamo siamo destinati a scomparire dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Quindi l'innovazione ci viene ripetuta da qualunque discorso, è un discorso veramente ubiquo anche nei media, ma secondo me il modo in cui si parla di innovazione è un modo abbastanza superficiale. Io oserei chiamarla una retorica dell'innovazione, piena di questi termini, start up, spin off, app, venture capital, che per la maggior parte di noi sono dei termini oscuri. Al tempo stesso però l'innovazione è qualcosa che ci riguarda tutti, perché l'innovazione alla fine, proprio al succo della questione, parla di cambiamento. E il cambiamento o perché ne siamo spaventati o perché ne sentiamo la necessità è qualcosa che credo non riguarda solo gli imprenditori, non riguarda solo la politica, non riguarda solo gli studiosi, ma riguarda tutti noi. E allora io ho cercato di parlare di innovazione, scalzando, scavando un po' sotto questa retorica e facendolo raccontando delle storie di innovazione. Quindi adesso, come diceva mia mamma, prima il dovere e poi il piacere, adesso spiego la logica per cui ho scelto queste storie, che è quella un po' che sottende il libro, e poi ne racconto alcune, sperando che vi interessino, vi incuriosiscano e vi facciano venire voglia magari di scoprirne altre. Molto semplicemente l'idea è quella di far capire tre cose, che poi quando vi racconto le storie vi sembreranno piuttosto semplici, credo. La prima è che l'innovazione è un processo collettivo. Noi siamo portati, siamo un po' sedotti da questa idea dell'innovatore come un genio isolato che nel suo laboratorio concepisce delle cose, delle novità, e poi le lancia nella società, nell'economia e queste immediatamente attecchiscono. Un'idea un po' come dell'innovazione, che poi è quella, come dicevo prima, che spesso ci viene raccontata, come il campo dei miracoli di Pinocchio, vi ricordate dove la sera uno semina cinque monete e la mattina dopo ne raccoglie cinquecento in progresso, sviluppo, posti di lavoro, addirittura sarebbe bello che fosse così, non funziona così, nel bene e nel male, poi in realtà come vedremo. Quindi l'innovazione è un processo collettivo, perché? Perché semplicemente, se non altro come utilizzatori, tutti siamo coinvolti nel processo di rendere un'innovazione efficace, renderla potente, farle avere degli effetti. Basti pensare a tutto quello che abbiamo in tasca o nella borsa oggi, a questi oggetti. Ogni volta che noi utilizziamo i social, Whatsapp, questo tipo di tecnologie, naturalmente contribuiamo, questa è la forza anche dei grandi oligopoli digitali, contribuiamo a renderli non solo di successo, ma addirittura indispensabili per certi versi. Secondo punto, l'innovazione non è un processo lineare, quindi non è che basta voler innovare o basta avere delle buone idee. Buone idee ogni giorno ce ne sono milioni nel mondo della ricerca, della tecnologia, dell'economia, poche, pochissime di queste poi effettivamente producono degli effetti. E qui scopro un'altra carta, ma anche questo è una cosa, credo, su cui abbastanza facilmente ci possiamo trovare d'accordo. L'innovazione non è l'invenzione, io non volevo certo scrivere l'ennesima storia, ce ne sono alcune bellissime, delle invenzioni. L'innovazione è, oserei dire, l'invenzione che si è fatta carne, è qualcosa di più, è un nuovo modo di fare le cose, o una nuova tecnologia, che però incontra, fa cortocircuito di solito con un altro cambiamento, che è un cambiamento magari nella società. La terza, la terzo, e poi veramente, ripeto, la parte più complicata è finita, il terzo elemento, il terzo concetto che mi sta a cuore nel raccontare queste storie è l'idea che l'innovazione non è solo tecnologia. Anche qui noi oggi siamo prigionieri di una narrazione, no? Di nuovo torno all'esempio, che forse è quello più evidente, più macroscopico delle tecnologie digitali, è un discorso molto focalizzato sulla tecnologia, no? Sembra che l'unico modo di innovare, a me capita spesso, incontrare dei ragazzi giovani, svegli in gamba, però molto spesso la loro idea di innovazione è quella di fare la prossima app, no? Che sicuramente è importante, però la tecnologia, e lo capirete bene dalle storie che vi racconterò, è uno degli aspetti dell'innovazione e a volte non è neanche il più importante. L'innovazione è qualcosa di più e di diverso, è un momento di cambiamento concettuale, un momento di cambiamento culturale. Francesco Baccone, che è stato non solo un grande filosofo, un uomo politico, ma pensate addirittura nel 600 lui si occupava di innovazione, no? Nei suoi scritti lui si occupa di innovazione e diceva, tra l'altro una cosa molto bella, diceva l'innovazione è come un forestiero, è sempre qualcosa che mette a suo quadro le nostre abitudini, il modo in cui siamo abituati a fare le cose e per questo ci spiazza, ci mette in difficoltà, quindi l'innovazione è sempre un momento di cambiamento, ripeto, che va al di là della tecnologia. Racconto subito una delle storie così si capisce di cosa sto parlando. Allora, la prima storia che vorrei raccontarvi, faccio un'altra piccolissima premessa, in questo libro, chi poi avrà magari la possibilità o l'interesse di leggerlo, non troverà le storie, diciamo quelle innovazioni di cui sentiamo sempre parlare, il tablet, il computer, gli smartphone, un po' perché se ne parla già a sufficienza, era inutile che le riraccontassi io, ma poi perché io sono andato alla ricerca di quelle svolte di cui noi magari un po' ci siamo dimenticati, ma che hanno lasciato un segno profondo, è questo che fa l'innovazione, nelle nostre abitudini di oggi. Quindi magari degli oggetti che noi ci, diciamo, o che ci sono diventati talmente familiari che non li consideriamo più innovazioni, due esempi che non racconto qui ma che ci sono nel libro, la caffettiera Mocha, straordinaria intuizione di un imprenditore italiano, Alfonso Bialetti, grandissimo successo in tutto il mondo, esposta al MoMA negli Stati Uniti, a New York, e la trappola per topi. La trappola per topi, lo racconto qui perché è una delle cose, appunto lavorando a questo libro che mi ha colpito, la trappola per topi è l'oggetto più brevettato nella storia dell'umanità. Da che esistono i brevetti? L'ufficio dei brevetti americani, uno penserebbe qualcosa che riguarda l'energia, le telecomunicazioni, il moto perpetuo, questi sogni proibiti degli innovatori. Invece no, l'ufficio brevetti degli Stati Uniti, che è quello considerato più importante al mondo, che ha un archivio di più lungo periodo, ogni anno riceve circa 400 domande per nuovi modelli di trappola per topi. Alcuni sono estremamente crudeli, altri sono esilaranti, il topo che viene intrappolato in una piccola bicicletta, in un labirinto, con un laser, con delle cose sofisticatissime, ma nonostante tutti questi tentativi, la trappola per topi classica, di cui si vendono, mi pare, solo negli Stati Uniti, ogni anno circa 4 milioni di esemplari, è ancora quella che due commercianti, uno inglese, uno americano, quasi contemporaneamente, perché anche questo è un indicatore di quel processo collettivo che dicevo prima, cioè persone diverse che arrivano alla stessa innovazione, nel 1899 mettono a punto, e con poche varianti, quella a scatto, con la molla che avete visto, o di persona, o nei cartoni animati. quindi, diciamo, io ho cercato di raccontare delle storie meno note e anche delle storie che mettessero in luce, ripeto, dei cambiamenti, per esempio, dei cambiamenti importanti, per esempio, non ho raccontato la storia del computer, ma ho raccontato quella del mouse, perché il mouse è il piccolo, grande accessorio che fa diventare il computer da un oggetto per addetti ai lavori, il mouse viene creato nel 1968 da un signore che si chiamava Engelbart, che veniva dal mondo militare, conosceva bene i radar, i sistemi di puntamento, sapeva cosa vuol dire interagire con uno schermo, e fece questa scatolina con delle rotelle, un filo, e fu chiamata mouse perché assomiglia a un topolino, dopo aver scartato vari modelli, e il mouse però che cos'è? è, come dicevo prima, è quello che permette al computer di diventare un oggetto alla portata di tutti, che permette di interagire, da lì nasceranno poi il Mac, il sistema Windows, è la madre di tutti i touch, tutto quello che noi oggi siamo abituati a fare interagendo con uno schermo viene dal fatto che qualcuno nel 1968 ha avuto questa intuizione. e quindi vi racconto la prima storia che è la storia del Walkman, qualcuno se lo ricorda magari, qualcuno l'ha visto a casa dai genitori, dai fratelli, sorelle più grandi, il Walkman nasce nel 1979, era un piccolo registratore, riproduttore di cassette, sembra preistoria, ma si usavano le cassette, portatile, nel 1979 viene messo in commercio dalla Sony contro il parere di tutto il marketing, tutti i dirigenti della Sony. L'unico che crede in questa innovazione all'inizio è il presidente, si chiamava Chio Morita, il quale dice se non se ne vendono almeno 100.000 esemplari mi dimetto. Ora perché tutti i vertici della Sony erano contrari a mettere sul mercato questa innovazione. A noi oggi, appunto che sappiamo o intuiamo come è andata a finire la storia, sembra facile ridere di loro, questa è un'altra cosa che diceva Bacone, diceva il tempo è il più grande innovatore, quando noi un'innovazione ci siamo abituati ci sembra impossibile che non ci fosse prima. perché non ci credevano? Per ragioni molto comprensibili, perché le tecnologie per l'ascolto musicale, siamo alla fine degli anni 70, erano andate in quegli anni sempre verso l'alta fedeltà, la maggiore fedeltà. Erano i grandi impianti stereo con cui si ascoltava la musica classica, il jazz, la musica pop dei Pink Floyd, questi suoni molto sofisticati. Chi poteva essere interessato a questo registratorino oltretutto chiaramente limitato dal punto di vista della qualità sonora? Che cosa non avevano pensato i dirigenti della Sony che stava arrivando una nuova generazione di ascoltatori che era ben pronta a barattare un po' di qualità nell'ascolto con che cosa? Con la possibilità di portare con sé la propria musica, no? Quindi portarsi questo registratore, riproduttore, portarsi la cassetta con le cuffie andando a fare jogging, andando in metropolitano. Una generazione che scopre grazie al Walkman che cosa la possibilità una cosa molto moderna la possibilità di personalizzare la musica, di creare delle proprie compilation, cosa che naturalmente oggi noi facciamo su scala digitale abitualmente e poi altre due cose che noi ci portiamo dietro ancora oggi, anzi le abbiamo elevate all'ennesima potenza, una è il multitasking, ascoltare la musica facendo qualcos'altro, no? Prima, diciamo, ascoltare la musica era un'attività quanto tale, oggi per noi sappiamo, nella maggioranza dei casi, ascoltare la musica è un sottofondo per altre attività. La seconda è la condivisione, qualcuno si ricorderà che il Walkman aveva due ingressi per le cuffie e questo permetteva a due persone, due fidanzati ad esempio, di ascoltare, di condividere la stessa musica, oggi naturalmente noi lo facciamo con Spotify, con tutti i mezzi digitali di cui, però il primo, la primo diciamo cambiamento, questa prima grande innovazione arriva con il Walkman e adesso vi mostro una scena di un film di quegli anni che qualcuno riconoscerà che cattura proprio questa innovazione. e adesso vi mostro